Un viaggio sopra il livello stradale ma anche sotto dentro uno dei rifugi antiaerei più conservati e meno conosciuti di Palermo, aperto per i 70 anni dei bombardamenti del maggio del 43 per due giorni nell'ambito di Palermo apre le porte. Per 70 anni vittima dell'oblio questo luogo il ricovero Gaetano d'Aita sotto il cortile della scuola madre Teresa di Calcutta di via Macqueda ha ospitato un percorso memoriale con pannelli fotografici e didattici a cura di Claudio Fucarino con la consulenza di Attilio Albergoni. Un luogo da conoscere che parla ancora oggi del dramma di una città che venne devastata dai bombardamenti alleati. Il 9 maggio di quell'anno per 24 ore le bombe sventrarono case, palazzi, chiese, monumenti lungo l'asse che va dalla Cala sino a Corso Calatafimi. Domani ne parleremo ad Agora con Attilio Albergoni storico militare e autore di numerose pubblicazioni con Giusto Catani assessore del comune di Palermo e con la storica dell'arte Claudio Fucarino che lancia un appello. Sicuramente dovremmo realizzare un museo memoriale, raccogliere tutte le testimonianze delle persone che hanno vissuto in quel periodo, realizzare una sezione video, una sezione audio, una sezione fotografica ecco un po' più completa e riaprirla alla cittadinanza. È un museo che va aperto perché Palermo ancora possiede tantissime ferite della seconda guerra mondiale. Per cui un museo del genere può solamente arricchire una città e soprattutto conservare una memoria storica di una città. A proposito di memoria, nei giorni scorsi questo rifugio è stato visitato per quelle due giornate in cui è stato aperto da molte persone anziane. Cos'è successo? Abbiamo avuto circa 1500 presenze e tantissime persone 90 anni. Molti si sono commossi, è stato commovente realizzare le guide turistiche per queste persone. ognuno di loro ha raccontato un pezzetto di storia vissuta. Ecco, noi la raccontavamo per quello che conosciamo, loro la raccontavano per quel che hanno vissuto.